Ci troviamo sempre sul fiume Piovego e un altro dei problemi segnalati dagli amissi del Piovego è che una parte delle acque piovane di Padova vengono raccolte e riversate nel Piovego senza controllare che non vi siano rifiuti di tipo organico. Una delle possibilità future alle quali sia gli amissi del Piovego e sia gli amici del Portello sono contrari è l'apertura di questo tappo per riversare le acque all'interno del Piovego. L'amministrazione comunale ha preannunciato che aprirà una nuova linea di collettore di acque meteoriche per convogliare le acque di via Portello direttamente in Piovego a circa 50 metri di distanza forando le mura del 500. Quello che abbiamo visto è un'attività preliminare, il cosiddetto carotaggio, la previsione è poi appunto di fare i collettori a livello delle acque. Noi siamo contrari perché chiaramente andare a forare per questa ragione un monumento del 500, il più grosso monumento che abbiamo, non dimentichiamo in città, e quando a poca distanza di qualche centinaio di metri c'è la rete già esistente dei collettori delle acque meteoriche, ci sembra veramente uno spreco di denaro pubblico, innanzitutto considerando anche il fatto che come vedete le mura qui non sono assolutamente manutenute, quindi semmai quel denaro doveva essere, anziché per forare, per bucare le mura, doveva essere impiegato per manutenere, recuperare e restaurare le mura stesse.